Ufficialmente dovremmo essere in live, teoricamente, praticamente non lo posso sapere finchè non scrivete Sì siamo in live, bella ferro, bella Emanuele, bella Lauri, Grini il cocco magnetico, attenzione Nuovo nome, bella Loli, bella Francesco, bella Juder, bella Emanuele, di nuovo Gianni, Andrea P, Maria Rosa, bella di nuovo Francesco, Manuel, bella rega, Mr. Kiklov Bella Mattia, tutto bene grazie Loli, ciao Auri tutto bene tutto bene grazie Allora, piccola anticipazione, piccola anticipazione, siamo unreal magari, siamo campione all'83% raga In questa live non accetto il non arrivare a Unreal, quindi vediamo di non perdere Al contrario vediamo di vincere Ci stanno Davvero persone Davvero ci stanno persone No, no, no No raga, porca di quella grandissima vacca, perché avevo zero mass? Perché avevo zero mass? Perché avevo zero mass? Perché avevo zero mass? Perché avevo zero mass e quanto perdiamo? No No, no, un 3% così no, dolorosissimo Ti auguro parti, no, doloroso Sto male Allora Sto male, sto male Questa è grave raga, eh Dobbiamo invitare queste cose, perché Un 20%, 21% è tosto, non sembra, ma da campione a Unreal è tosto Ferro domani ha interrogazione di storia e mi metti con una benedizione Signora Auri Tipo Dottor Strange Ti do la benedizione per riuscire a prendere Almeno il 6 Raga adesso non è che puntiamo al 10 Le benedizioni si fanno anche in questa maniera Quindi tu almeno il 6 lo prendi così tu vai tranquilla Fidati di me Tu stai serena e tranquilla durante l'interrogazione Ovviamente di tutto ciò che riesci Fatti vedere preparata E almeno il 6 lo prendi, quindi stai tranquilla Viva Ibiza Direi raga Voi non avete idea Non posso spoilerare nulla Del mio prossimo viaggio Eh sì Ragazzi ancora non lo fate Seguitemi su Instagram Oltre che a TikTok Tutto il resto Perché ne vedrete davvero delle non belle Di più Di più raga, eh Non avete letteralmente idea di dove andrò Beh forse qualcuno se lo può aspettare È una delle mete più rinomate Ci andrò anche Vedrete, vedrete tutto raga Vedrete tutto Io ho preso 3-4 di una settimana Eh Fortnite Kid un po' esagerato eh Come fai a prendere 4 Sempre Codferro Grande massa fra online Esatto raga A breve Nuova season Di conseguenza Oggi Aprite Fortnite Inserite il codice ferro Nel negozio oggetto Per il massimo supporto Siete sicuri che non vi scadrà Prima dell'inizio della nuova season Ma soprattutto All'inizio della nuova season Nel senso Una volta che entrerete È la prima cosa da fare Non è giocare Controllate di avere il codice ferro Per far parte della gang Numero 1 in Italia Oddio Beh Speriamo Non lo so Però ecco mi raccomando Supportatemi al massimo Per voi è gratis Non vi costa nulla Ci mettete un secondo Basta andare nei negozi oggetti Supporto a un creatore F E R 5 lettere Si su 5 Ok 5 lettere Ci mettete un secondo Potete mettere un maiuscolo Minuscolo uguale E mi starete supportando al massimo Mi raccomando No non vi darà ricompense Ovviamente Ma mi supporterete al massimo Quindi Quindi Grazie a cuccioli Vi beccate un grazie a cuccioli E un bacio virtuale Ma Non si sa Se arriverà mai Gente dice che Sei ritrovato Il bacio stampato Fuori dal cancello Di casa propria Però Ad altri Non è mai arrivato Però mi fai Serviati Vediamo dopo Magari ne facciamo uno I the boys Conquistano youtube italia Speriamo Es girl Non è che Non è speriamo Tempo al tempo Fidati Tempo al tempo Adesso Purtroppo Avremo ancora qualche video Nella quale Stiamo un po' faticando Per il fatto che Purtroppo raga Nuova season Primi canali Cioè ci vuole tanta Organizzazione dietro Ma Arriverà adesso raga Il periodo Nella quale Devasteremo completamente Youtube Italia Ve lo assicuro Ve lo assicuro raga E fermo a seconda Inizio la nuova season Teoricamente raga Lotto Praticamente Ovviamente Come tutto il resto Come sempre Non lo so Io direi di andare A questo lama Che lo Preferisco Di gran lunga Qualsiasi Altra arma Sbaglio Questo invisibile No 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 Non deve avere armi Questo Lo sapete Termi Ragazzi Prego tutti i must Più Ovviamente No 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 Ti prego Gioco Fermi Ti prego Ok Bella doppia pistolina Mi fa credere di più In me stesso Ok Allora Piano Scusate un attimo Sono Sono in In panne Ok Fermi Nel frattempo Raga Siamo in 300 In live Aiuto Che qua Se ne va già Via la mia voce Mi raccomando Droppate Tutti Adesso Un bel Like Per il supporto Che qua Ne abbiamo bisogno E non poco Di supporto Fermi Ok Ok Raga Deve provare a entrare solamente da lì Nella finestra che deve entrare Ok Potrei provare a killarlo Ma so anch'io che non ce la farei Raga ma che sta succedendo in questa partita Medicozzo Slurp E raga ma che armi di merda Ma veramente Scusate Non voglio essere Ok Non voglio essere maleducato Ma capite che qua È una situazione orrenda Aiuto Ok Ti prego corri Ti prego farlo corri Bende Ma solamente le bende Trovo Ok Pompà Sì Buono Questo good Questo very good Bello Quello lì davanti Comunque raga La faccia dell'ama Abbiamo già perso tutti i mazze No ma questo raga Ce l'ha su con noi Allora No ma bro tranquillo No ma bro replay sta tutto tranquillo Guarda che non fa nulla Te lo giuro non fa nulla Puoi prendere tutto Tanto il gioco è tuo L'ha creato lui a quanto pare Cosa potevo farci Piangere Non 1% così voglio piangere Pfff Bisogna già togliersi No già no no ragazzi Qua bisogna già Bisogna già togliersi da ferma Perché sto già sudando No 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 Va bene raga Qua arriviamo a meno a real Arriviamo Altro che a real Raga qua c'è la 3rd Non me il po' Raga ho bisogno Del vostro supporto Qua siamo a 129 like In 330 spettatori E' imbarazzante Imbarazzante Buonasera canale chiuso Bella Mamed Bella Stefano Bella Ale Bella Giorgia Bella Tommy Auri Bella Ivan Bella Laura Bella Sandro Bella Juder 3rd 3rd Come ne vido Adesso mi tocca Mi tocca Mi tocca Mi tocca Mi tocca Ma Stefano che incontri I demoni in pubblica Ma Non lo so Ferro vai vicino le montagne Raga voi non avete compreso una cosa Io adesso A me basta avere delle armi Cioè sono morto letteralmente Due volte su due Ma perché Non c'avevo nulla Chiamami soltanto Gian Perfetto Camera di chiuso Adesso in poi ti chiamo Gian Ferro una nuova season Devi subito Non chiedere il scontro Tutti Obbligatorio Scherzo come vuoi Vabbè ci starebbe Raga Sicuramente Raga potrò riproporre Forse La scioppata Di tutto il pas Mi piace sempre Così mi partono Un bello Ottantino Prima Pre season Così si parte Di lusso Su con questi like Su 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 Let's go Su mi raccomando ragazzi Drop the likes Tu sei il mio prete Che cosa strana Mi hai appena detto Mi piace il tuo video Se tu arriverai il A me piace il tuo video Se tu arriverai Il 2000 Non l'ho troppo Ho capito questo messaggio Che tastiera usi Una della Kraken keyboard Eh gg Ha fatto tutto da solo Non mi sono mai lanciato Raga ho appoggiato La tastiera Bella CSK Licex Il granchio reale Ma quanti nomi strani oggi Ciao ferro Come stai Tutto bene Licex Come mai tutti State facendo i nomi Particolari Fighi però Aiuto Felice usi Il più susto d'Italia Ok Ma dove In fondo Ma stiamo scherziamo E poi perché Devi mirare proprio me GG Allora Allora Gioco mi spighi Perché non mi fai Ragazzi Non stiamo facendo Un inizio game decente Raga Non riusciamo a fare Un inizio game decente Uno E io dove vado a lutare Gioco tipo un lama Se vuoi darmi un lama Se vuoi darmi un lama Gioco Molto bella Questa maglietta nera Grazie Io raga ora Voglio tre cose Uno che non ci sia gente Al gran cacciaio Due che Da ora in poi Beccherò dieci bot di fila Tre Che se volete supportarci Ricordarvi Che se volete supportare Massimo Dovete inserire il codice ferro Nel negozio Gatti per il massimo supporto Cosa ci fai tu Che ci fa questo qua No brother Ok fermi Ti prego muori Ok Almeno un pompa ce l'abbiamo Certo Avrete ragione voi Forse meglio la pistolina Ma voi ve ne è stato un po' Giù Che cavolo Oh raga Non siamo messi male Unisamente Meglio di così Non potevo Essere mezzo Ragazzi io veramente Lido per non piangere Silenzio Ok Non mi sembra di sentir player Però guarda Se trovo un altro pompa bianco Veramente Oh Con questo raga Posso fare Grandi cose Oh la Un altro Dammi un altro ancora A sto punto Oh Uno dei Dei tetti più strani Che abbiamo mai visto Qua stava scoppiando qualcosa Questo gioco raga È veramente strano Ultimamente Questo gioco è veramente Sempre strano Troppo strano Ma tipo Ma raga ma Ma una cura No Scusa Scusa mi gioco Per averlo chiesto Cioè Niente Lo giuro raga È Sono allibito Poi magari sono io Che mi lamento Ne Dimmi voi Vabbè Andiamocene via Con No Zitti tutti Sono troppo più forte Sono Troppo Più forte Per ora dove vado Arriva pure a safe Oh mio dio raga Ho sentito qualcosa Non dovevo sentire cose Mi sto spaventando Fammi un trick Let's go Molto importante Per tirarci sul morale Questo Raga I'm In full try hard Mod Vabbè GG Tile whip 180 a destra Cosa è successo Non lo so Vedete Rimettere Gran ghiaccio Hanno preso il medaglione Raga ma Vi prego Medikit No ma qua è dove Qua è dove ci hanno provato No No Non va l'auto Raga Posso piangere Posso piangere Non andava l'auto È fake Schiererò molto prima del previsto Raga eh Raga bisogna arrivare al real Forse non è chiaro la cosa Raga bisogna arrivare al real Questa è la cosa Goccia d'acqua Goccia d'acqua Goccia d'acqua e rimaniamo molto concentrati calmi Che l'uno per cento l'abbiamo fatto Raga lo so che ci siamo quasi Ma capite che mancano Quattro giorni Poi c'è la nuova season E se io non arrivo al real In questa season Mi metto a piangere Perché Ok che me la sono presa con comoda Non ho mai fatto classificata Però raga Non posso non arrivare al real Punto Stop Speriamo Sofia Bella Alfredo Bella Matteo Bella fresco di zona Io sto giocando a Minecraft Però tu mi rilassi Ma com'è possibile Fresco di zona Dovrei agitare io In questo momento Sei il mio prete Non so se Ush papà Stavo leggendo un commento Non date la colpa a me Bella felici Bella felici 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 Sus Bella egg zona Raga è finita per gli altri Per i bro del Del popping Intanto vedete Andiamo di fare sto parkour Si può fare Sì sì Certo che si può fare Però Ti prego Sì Sono felicissimo Ce l'ho fatta Era il mio dovere Il diritto A salirli sopra Campi Campi candidi No cap No paura di nessuno Tutto bene Bella raga Sempre solo Godferro Grande Natino Let's go Mi raccomando raga Inseritolo tutti Nel negozio oggetti A breve ci sarà La nuova season No capping Così a caso Oh oh Questo vuole andare qua Oh 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 Questo pure Tre bende Vi prego Permettetemi di piangere Fino all'infinito La vita è stata Troppo crudele con me Lo comprendete Che io sono andato Dove c'erano le bende Ok Allora qua ci sta Del loot Però ho visto Anche un altro tizio Passare qua sopra È ormai Il nostro Ok Mamma mia Buono Dammi Che No E raga quanto Sono pollo Da una A dieci No Mi sei pure Buggato Dai Dieci Sono venti Raga Ci avete ragione Che pollo Che sono Veramente Raga Il prossimo pollo Lo risparmio Solamente Perché sono io Ma dai Però Gioco Posso avere anche un pompa non spammone Bianco per una volta Te lo chiedo In gentil cortesia Qua io volevo le Dai peschiamo Bomba viola Che poi non so Perché raga hanno tolto Il fatto che si possano Trovare Armifiga Cioè Dalla pesca Ormai si trova Solo Lo schifo Dai gioco Fammi fullare di pesce Che poi pusho Dammi pesce O pusho Buono Meglio Guarda Ok Schifo Però almeno colpi piccoli No Attenzione Attenzione Ok Questo me lo tiro Così vado full Dammi due flopper Uno Ok Ce ne mancano due Un altro Buono Buono Vedi che le chiamo Ultimo flopper Oh là c'è un tizio che svolazza Attenzione Bello Allora sapete che io pusherei Questo non se lo aspetta Raga il push E me Allora Ma stravisto vero Ho proprio tantissimo Ma raga ma che Ah l'inbot Eh no Ce l'ho io L'inbot Clicchettino Così parla un po' meno Così parla un po' meno Dai inizia a parlare meno Brother Oh porca paletta Ma raga Ma raga ma avevo finito pure i mazze Perché mi ha pushato subito Adesso No raga veramente È il momento Raga ma mamma mia Mamma mia Mamma mia Voi non avete compreso Che 3 hard data tiro adesso No 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 Non avete capito nulla proprio Sì un altro 1% Prendiamo e portiamo a casa Raga tutto bene Però raga ma mi pushano Ero nel box dell'altro Non potevo essere il mio box A avere 50 di mazzi in più Così potevo provare la ripresa Cosa sta facendo questo Cosa mi stai facendo Rivedere come mi hai killato Mi sta tipo spiegando Guarda Secondo me era anche un tutorial questo Guys Guardate questa scala Io edito A left E io Exponso A right Io kill Pum Pum Psh Tutti 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 Mi aspetto Ha 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 Avete presenti i tutorial In inglese Quelli Stracile Guys Look at this This player Now I go On high I push I broke this wall Gang 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 Non ci voleva questa Sono 195% Aiuto Ero stiva meglio a te Io sono all'80 Cioè vorrei D'arrivere in real Che il codice ferro Raga It's time To shine With the code ferro Codo ferro sempre per sempre Il momento raga Spammata il codice ferro In chat Guys Spammata il codice ferro In chat Adesso Now Qua ne abbiamo Urgentemente bisogno Raga ve lo dico io Sono nel Hood Mamma mia Quanto Quanto Raga Questi qua dovrebbero essere Tutti edit Ma raga come Poco Grande Marcello Grande Tommaso Grande Vitalba Nicolas Tekkon Tekkon scusa Eros E raga Fondamentale Mi raccomando Inseritelo anche nel negozio Oggetti Non è che lo dovete solamente dire Perché se no non mi supportate Quindi mi raccomando Inseritelo con il massimo supporto E raga Andiamo a vincere Sta cavolo di partita Fatemi mettere Full tryhard mode Sono concessi Almeno 5 punti In questa partita Senza i 5 punti Inizia a diventare grave La cosa Voi direte Ferro dove vuoi andare Sono un po' Lontano Io volevo andare là Perché Perché vanno tutti là Penso proprio Che mi tocchi andare qua sotto E raga Se andassi subito A pushare quel tizio Sono messo meglio Al 100% Però tanto Mi da pochi punti No 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 Ok Tanto raga Mi darebbe pochi punti In realtà Non so se andare a pushare O no raga Si vado a pushare Eh raga Secondo me questa è una Pessima giocata Ricordate le mie parole Questa sarà una Giocata non pessima Di più Però ormai Si va Bello Ho sentito un altro Tizio da sopra E se invece prendessi la macchina E pushassi Quelli che fightano Li chilo entrambi raga Però non c'ho mazze Quindi Devo pushare Si Ma se vado là Senza mazze Io muoio Quindi facciamo il giro Da di qua Prendiamoci sto albero Che dovrebbe dar tanto Ecco bravi Spariamo Gli facciamo il giro Questo E li pushiamo raga È la tecnica migliore Fidatevi Anche se Tutto ora ragazzi Abbiamo il pompa bianco Quello del cavolo Beh Lazzo Ci abbiamo il pompa Tattico bianco Questo è un grande Problema Allora dovrebbe Stare qua sotto Attenzione Attenzione Io farmo Nel frattempo Dove sta? What? Stanno vengono qua Dimi che c'è un pompa Meglio del mio Anche se mi hanno colpi Questa è la mia skin Ce n'è solo una di quelle skin Originali Non è? Ti prego No voglio piangere Come ho fatto Essere così veloce Fatemi un attimo No 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 Sta andando veramente male Sta andando veramente male Raga Sta andando veramente malissimo Quindi Wait Wait Allora Mi era scaduto No Raga Per questo Ogni 14 giorni scade In gioco Tienimelo Mi si fa mettere Tienimelo per sempre Non si può fare Raga Adesso vi faccio vedere Una roba che Comprendete la vera potenza È il ritorno dello G Signori È il ritorno dello G Voglio un urlo per questo Signori Si torna Si torna G come una volta E perché sono arrabbiato Di dopo una bottiglietta Però per caso Sono un elettricista Quando ti vedi i miei occhi Si accendono Wow Virgi Però per caso Sei un elettricista Quando ti vedi i miei occhi Si accendono sempre Wow Wow Prossima ragazza Che vado a rimorchiare L'approccio così Faccio Ehi scusami Sei per caso un elettricista No Cosa stai dicendo Perché mi si sono accesi gli occhi Quando ti ho vista Pum Poi la guardo e gli faccio Pum Ah Una delle cose più Ah Vorrebbe molto ridere No Non ho la ragazza Non ho la ragazza ragazzi Ma se i ragazzi Vogliono che io Abbia la ragazza Troverò una ragazza Per i ragazzi Quel pum Mi ha conquistato Bella Michele Bella Francesco Bella Stefano Samente ragazzi Che sto andando in palestra Perché Io sono abbastanza Oddio Sono magro Più che altro Non mi sono mai allenato Oddio Cioè Ma Forse In realtà Ho sempre mangiato poco E sono un po' magretto Nulla di sotto Non è che sono sotto peso O altro Nel senso Nulla di grave Però sto iniziando A andare in palestra E sono tre settimane Che vado Raga Sono contento Mi sento già Proprio meglio Sento già Vedo già Di risultati Sono molto molto contento Infatti adesso Finisco questa cosa Ho una chiamata Abbastanza importante Devo fare un'altra cosa Ceno e vado in palestra Ah Emanuele Ho messo il code ferro Grande Valerio È il momento Raga Spammate il codice ferro Perché ora va bene Comunque raga Fermi Guardate Pugno È bellissimo raga Io non so come farvelo vedere Ma io Non hitto la tastiera Ma Salta No Sto io tirando Tirando Toc Contro il Come si dice Contro il Vabbè basta Vediamo Oggi non so neanche parlare Non so neanche parlare Allora Versante Paura di nessuno Anzi Anzi Andiamo a versante Se è bellato Come è bellato Come è lato a faccia Sei stato Ado No vabbè basta No raga Non possiamo fare No Cioè nel senso Rischio di andare A discriminare qualcuno In Cattiveria Volevo fare un po' di Freestyle Allora Attenzione Ok Momento rap Volevo fare un po' di Freestyle Attenzione Perché Ferro è sceso In pista Ora mi faccio Un game Su Fortnite E tu invece Torna da Unnond Wow Wow Ah sì A proposito Sono stato prima Io da entrambe le mie nonne Mi raccomando Andate alle vostre nonne E Non ce la faccio Raga Veramente io sono troppo Cioè Do troppo peso Le parole che dico Purtroppo E di conseguenza Faccio veramente fatica A fare freestyle Cioè letteralmente Io avrei anche delle rime Abbastanza carine Che mi escono Ma Non me le sento Sapete Cosa vorrei Una base A dei turtei Ok Bro Ti prego Ti prego bro Ma Ma che è È a buchi Sta casa Ok Piano Allora Piano raga Siamo in 516 Nel frattempo È il momento Ora Droppate like Perché non ho bisogno Raga Ho bisogno Della forza Per scappare Lambo No Ho switchato a posto Ti prego Lambo Vola Ok Ok Direi ottimo No Un paio di scatole Ottimo L'hanno già lottato qua Allora Lasciamo qua La mia Lambo E andiamo Con una nuova Dopo raga Personalizziamo meglio La Lambo Non che così Sia Sia brutto Anzi Così è devastante Raga Raga E qua è full tryhard Dobbiamo arrivare An real Ragazzi Per tutti quelli Entrati da poco Benvenuti ovviamente Mi raccomando Vi ricordo Codice Ferro Da inserire Nel negozio oggetto Per il massimo supporto Come avete visto Le prime partite sono Veramente andate male E ho scoperto Che non Mi si era Cioè mi si era tolto Il codice ferro Quindi reinseritelo pure voi Per il massimo supporto Scappa dai fight Siamo sicuri che questo Sia il mio duo Mazzo Non ti chiedo Per favore Di non parlare Perché il tuo duo Non entro fine Di questa live A sto punto raga A sto punto Replichiamo la vita reale Voi direte Ma perché Replichiamo la vita reale Ferro Perché il signorino Qua so Qua Il signorino Totalmente a caso Mentre se ne va in giro Con la sua macchina Come fanno tutte Persone normali Ha perso Due Bor No Come si chiamano No Bor Che no Non credo Non ho detto una paulata Però senza senso Due Quelle cose lì Copri ruota In poche parole Così A caso Perché gli andava Le mie ruote Tanto raga Ma che luto Che luto Che schifo Di luto Ma raga Ma a parte Gli scherzi Esistono delle armi Decenti Giusto per chiedere Se è arrivato Azzo Io sono arrivato In Rio Il primo giorno Di season Ma vai Ma dai Azzo Mamma mia Sembra un balordo Come l'album Che devo uscire Di Saki Sembra un balordo Adesso io faccio vedere Io che è il vero balordo Questa Questa la vinciamo Raga Questa è nostra Allora Mamma No ma Gioco Tranquillo Guarda se hai altre Robe Scarse Da darmi Gioco Dammi Tanto Mustarmi qua Pensavo Di veramente Vincerci la war cup C'è Stare chiedendo Un po' Verde Gioco Non blu Viola Ricendario C'è Veramente Va benissimo Quello verde Vedi te Però gioco Sembra L'hai venutato Tipo 20 strutture Un cecchino No Un altro Pompabianco Ma due ceste Attenzione perché Queste due ceste Mi danno la La speranza Pompabianco Mi danno la speranza Che prima non sapevo Di avere Attenzione Pompa verde Ma spammone Ora What Chi era sta roba No 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 Devo prendermi impulso Ok Sapete che io Ho il posto di provare A prendermi Allora qua Stava arrivando Il medaglione Ma il vostro Caro ferro Si hacker Al treno Quale hanno Già prese Le armi E ce la cilliamo Raga No Non voglio farlo Cadere Questo Vai giù Oh Un pollo Ciao pollo Ragazzi Il nostro Il nostro Wow Boom Tu adesso Starei qua con me Guarda quanto corre Guarda quanto scondi Insula Dove te ne vai Tu sarai qua Per tutto Il resto Della tua vita No tranquilli Sono molto gentile Dopo lo libero Dai Un pompa blu Gioco GG Raga Allora Wow Fermi Lo fai tu? Dov'è? Dove sei andato? Puscio Tu eri veramente Entro un cespuglio Tu eri Veramente Entro un cespuglio Tu eri Veramente Entro un cespuglio Questo qua ragazzi Dobbiamo devastarlo Full trail mod Spam di codice ferro Al momento Allora E la die Mamma mia Ma questo qua Raga Ma come giochi Mamma mia Mamma mia Ma ragazzi Di cosa stiamo parlando Demolito Col pompa bianco No parla tanto Qua raga No parla tanto Allora Fermi Cecchino di mica Eh raga Questo è buono Però eh Io direi che raga Siamo messi Va bene così No 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 Raga mi da fastidio Non avere 100 di vita Tantissimo Moralmente sto male Raga Non vi rendete conto Quanto C'è capito Un pugno al cuore Vedere 84 di vita Vabbè Ce ne faremo Una ragione Signori Chilozza fatta Chilozza fatta E non ho più paura Di nessuno Dovevamo sbloccarci No Dovevamo sbloccarsi Sbloccarci Dovevamo sbloccarci Ed è arrivato lo sblocco Su costi like raga Siamo in 605 Intanto benvenuti a tutti 620 Addirittura Ma 300 live Raga Mi sa che dopo di questa La stacchiamo Eh la live Eh sì Eh sì Sto notando che non vi piace La live a quanto pare Quindi meglio Onestamente Sì staccarla Sì 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 La staccheremo Mi raccomando dai Su costi like raga Che non vi costa nulla È gratis Mi raccomando Sempre codice ferro Nel negozio di atti Per il vero Massimo supporto Allora Ora La stanno prendendo La cesta Ora la mia proposta è Guardiamo dove l'hanno aperta Perché Cioè chinare in testa Al bro Non mi farebbe schifo Non deve avere Questo Ok Fermi No 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 Che mi vuole Full box Alla vero Ok Ok Questo è la campione Ci sta Sicuramente L'ha poco O sicuramente Non seguire Le nostre live O sicuramente Non utilizzare College ferro Per il massimo supporto Nel negozio Di fortnite Oppure Non è un valordo Lo dico io Hehehe Allora Now I won't see a people Ferro Non si dice così Ma lo sai l'inglese No Non lo so E non mi rompete le scatole Perché io adesso Devo vincere questa partita Punto E stop Ok È un affare Che non ti ricapiterà Mai più nella vita Io Ti do questo La mia vita Isco da qua E ti porto anche Il doppio Il triplo Vado a fare i soldi Unico obiettivo Chi se ricorda Raga quel video Hahaha Io adesso Ti do in mano questo Io ti do in mano questo Questo è come la mia vita Non lo toccare Non farci nulla Perché mi arrabbio Tu mi dai 125 euro Io esco da qua Con una sola previsione Una sola Impostazione mentale Fare i soldi Quando torno Te ne do anche il 200 300 Nessun problema Chiaro? Siamo full tutti maz Paura di nessuno Vi faccio anche un po' di smr Questa sera Sentite Right Ah questo ragazzi Mamma mia Signori Regalino di Lollotusk Left Due Left Due Right 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 Il ferro Ma dice Left Due Right Due Boom Sera win Ti do 100 euro Scorpione esagerato Non dire ciò che non ti puoi permettere Magari te lo puoi permettere Però non farlo 100 euro non li vorrei neanche Raga Non donate mai 100 euro più Che già in passato Della gente l'ha fatto E No Se volete abbonatevi Mi raccomando raga Per favore Sempre donazioni Abbonamento basso Io vi ricordo Codice ferro È gratis Nel negozio oggetti Mi starete già supportando al massimo Non c'è bisogno di aggiungere Nulla Là sopra Fermi Eh Il bro se l'ha presa Stai per la tella Sì 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 Ok Vorrei Proverare una cecchinata Ma Sarebbe stata A dire poco epica No Un po' più alto Lo beccavo Ma che è Se n'è andato Questo qua mi ha tirato qualche colpetto Se n'è andato Non mi ha pushato Non ci credo È sicuramente uno scherzo Qualcuno qua si è messo d'accordo Per farmi uno scherzo Lo dico io Ma Ma Dai Dai voglio fare quella Diciamo che una sniper Così sarebbe entrata Nella storia di fortnite Ma proprio fortnite Mondo Left Due 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 Sono proprio forte comunque raga Sono proprio forte E' che Io non vorrei pusharlo Lui però Mamma mia buono Ok non mi sparate adesso Vi prego guys and garfields Eccola Dodo Attenzione Fermi Mamma mia raga Tanto questo qua dovrà volare prima o poi Poi ci avrà tipo 9 persone Alla quali lui ha sparato Che gli spareranno lui Spero almeno che letteralmente Tutta la gente alla quale ha sparato Si giri E gli spari Anzi Io attendo proprio Con furore questa cosa E' lui non è lui Bruta Ma per quanto Ma gg L'avevo palesemente beccato Non rendo conto che il gioco Mi sta sabotando Ma dai sotto la Invisibile è diventato il bro Attenzione Vorrei che il brusci Stia da lì saltellando Gli tiro unerci E vado a rubare tutto Mi scoscia tutti i medaglioni raga Devo uscire da qua saltellando Ti prego Wow Noo No raga un altro tipo E meno male che non mi ha beccato in testa Raga ero morto eh Da dove è l'altro raga Bruta situazione Ma raga ma questo c'è tutti i medaglioni Tranne uno Eh raga ma Qua ricordiamo che ci sa un player eh Che addirittura Ma raga ma è qua attaccato è un tizio Ma raga Ma era nella finestra No way Ma che Raga ma posso piangere Guardate dove si trova la safe A me fa paura quello raga Che come vedete dalla minimappa È il tizio con È il tizio con i quattro medaglioni Ok Quello che si trova proprio qua Esatto Qua bisogna ruotare raga Ok fermi Saltate Saltate fate cheese Sorridi No Fate ciò che volete È vostro il corpo A me non interessa Ok Cristiano Grazie mille dell'abbonamento maresciallo Pro benvenuto nella gang Ok Brother grazie di cuore Ma ora è il full momento Tra yard No Cristiano ci provo a dedicarti a vittoria A tutti voi Tutti voi che usate il codice ferro Per supportarmi al massimo Lo farò per voi No Quattro rimasti ma uno fuori safe Secondo me No Tutti i medaglioni fuori safe No Ok Buongiorno c'è un tizzo dietro che mi rompe le scatole Mamma mia Mamma mia Ok No way Ragazzi scusate se parlo poco eh Oh mio dio No No ragazzi sono proprio più forte della persona normale io GG quello No No fermi raga Let's go E si va a vincere così Let's go Nel C-Longs Mamma mia signori il ferro E' uno spam di codice ferro adesso signori Oh mio dio ce l'abbiamo fatta Che partita Su su 92% Un bel più 13 Sentite le mani qua Come si sfregano tra di loro per la felicità Un momento ragazzi preparati Qua si va a vincere Si arriva in live in real signori E adesso vi ricordo ancora per l'ultima volta Codice ferro ragazzi Pre-season E inseritelo Non toglietelo più per la nuova season Mi raccomando raga Let's go Che cavolo di vittoria Mamma mia signori Bella Francesco Grande Samuele Lorenzo Sempre solo codice ferro Let's go Bella Virgi Bella Giussi Bella Lauri Bella Lucas Let's go Sofia Grazie ancora Cristiano per l'abbonamento Che starà per te Code the boys Anche se non esiste Ferro Uno contro Azzo No non ci vuoi raga Dobbiamo arrivare in real Che a me frega De uno contro Uno contro Azzo Cioè Azzo Tutto bene nel mondo Però si è avuto sta idea Veramente orrenda Cioè ragazzi Io qua devo arrivare in real Mica stiamo qua a giocare Bella Gio 15 Grande Francesco Bella Io metto solo canzoni Uno contro Refe Refe contro di te Se permetti No Bella comunque Refe Bella Gino Bella Luca Bella Romina Mamma mia che win Raga ma che sniperato Ho tirato Raga ma che 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 Boom No ma Ma raga mazzo Non lo farei neanche Cioè Allora Non scherzo Non voglio Le mie doti Devo pensare Che sia scarso Non voglio Di far vedere Io non ho pensato Refe 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 se vuoi Arrivo a real E poi ci facciamo Una box fight Uno contro uno Chat cosa ne dite Box fight Uno contro Refe Dopo Però Refe Te lo dico Potrei fare Un 10 a 0 A me dispiace Quindi vedi Te Refe Contro Refe Non la faccio Perché mi arrabbio Dopo Perché Cazzo Raga camper Un camperone E quindi Veramente Con te Mi arrabbierei Lo so già Non dire di no Qua È Risaputo Nel Cilling Refe Ti guarda Dalla palestra Let's go Refe Beato te Beato te Io oggi Lo stavo dicendo O ci vado Stasera Tardi O non posso Mi saluti Sono Nico Bella Nico Allora La cosa Super divertente Che raga Non ho un land Cioè io letteralmente Non vedo l'ora che Io spero che esploda Stamappa Nella nuova season Ve lo giuro Raga Non mi piace Cioè Piace a tutti Tutte le armi Mi fa veramente Schifo Stamappa Veramente raga C'è un periodo Che non volevo Quasi più giocare A fortnite Non sto scherzando Però poi mi rendo Anch'io conto Raga Che un pro player Come me C'è capito Un talento Sprecato Raga Cioè Non posso Non giocare A questo gioco Così Mi saluti Sono Aris Bella Aris Come stai Tutto bene Grazie Maranza Ragazzo Su fortnite Nove e mezzo Perché c'è sempre Margini di miglioramento Ma ragazzo È veramente Devastante Lazzo Raga Fortissimo Best player In ita No Oddio Adesso L'ho sperata Un po' alta Finchè Non dimostra Un po' Nei tornei Di saperci fare E parla E basta Mi dispiace Azzo Ma non posso Dire che sei Il più forte In ita Però ragazzo Bello potente Potente Azzo Ferro Top 2 Sicuramente Raga Adesso Nuova season Nuovi tornei E Io Azzo Ci rideremo Dentro C'è stato Un po' Un 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 Da parte mia Un waitare Onestamente Negli ultimi Tornei Perché Non ero Troppo attivo E mi dispaceva A farli perdere Adazzo Non so Però Li ha persi Anche lui Perché Non c'è Duo migliore Rispetto a me Capito E quindi Torneremo Torneremo In duo Vediamo se Per sbaglio Vuoi farmi partire Il Che Cuner Nome Veramente Strano Allora Vogliamo andare A pushare Non è una brutta idea Almeno adesso Ci siamo messi bene Ok Silenzio tutti Non riesco a Capire Mi sembrava di sentire Delle persone Ah Ok È tipo Mi dovete fare questa cosa Permettetemi di respirare un attimo È stato veramente orrendo Raga Ho rischiato di morire Io devo asser tutto E tutti È dirci così Il bro stava ballando Dite per me No Non può essere così Imbarazzante Mamma mia Ragazzi Gigi No ragazzi Capo non è il vero Ci faremo un'ambulanza No tranquilla Romina Sono solo Molto fiero Che il calma Abbia colpito Questo player Ma ref ma Sei in ritardo Con la live O cosa Hai scritto adesso No cacchio Ragazzi mi raccomando Controllate sempre Di essere In live Direttamente Cioè no Tipo a 20 secondi indietro Come in questo momento Presumo Sia Sì per non rispondermi Lo sarà sicuramente A meno che stava A meno che stava Flexando Stava facendo Panca piana Adesso prendo Guarda di 4 Sto tipo Non si tocca Il bro Ah no forse Perché stava ballando Ah ok Sì Era in ritardo Stavo pensando Che stavi facendo Stavi pesando E tipo Eri stra inconcentrato E allora E allora ti è arrivato Dopo l'input No è morto ferro Dopo 10 minuti Che l'avevi visto Allora il bro Ha deciso di Blendare qua No Gioco mini E il bro Che è serenato via Così non ha fatto Una stupidata Anzi A dirla tutta Ha avuto veramente Un'ottima idea Il fatto che non abbia Comunque Trovato neanche un mini E tanta roba Qua si fightano Quindi se permettete Me ne vado via Io volevo fare Delle macchine Che vanno ancora più veloci Non hanno mai fatto Le macchine su Fortnite Ho sbaglio Scusate Mi si è baggato il cervello Non hanno mai fatto Le moto Quelle tipo da corsa Su Fortnite Vero? Ferro che guida una macchina La testa di ferro Non le hanno mai fatte Le macchine su Fortnite Perché soprattutto Ho sputato Pigliami Eh te l'hai finita Le impulso Godo Comunque quanto Godo quanto Raga Gli era volata giù dal Dal ponte La macchina Questo Allora Medikit E scudone Tutto insieme GG Bende Compromesso veramente Più di mercoledì Che schifoso Che potesse uscire Perché non te lo farei Sì Virgi un'altra Un'altra veramente Incredibile Cioè Virgi un'altra cosa del genere Potresti essere rimossa Di mod Istantaneamente Allora Piano Piano Qua io direi Eletromarcia Boost E basta Raga dobbiamo trovare Un posticino Dove andare a lutare Ovviamente Che non si è ancora Lutato Tipo Questo benzinaio Dai Questo non è Lutato Mai nella vita Buongiorno Vorrei un Medikit E basta Giuro che Aiuto Mi stava morendo La voce Intanto Giuro che mi rubo Un medikit E me ne vado Gioco Macchinetta Abbiamo 139 D'oro Quindi Allora Dammi Un altro Scudone Ti prego No Un itimo Io No Sì 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 Zitti Perché quello è andato lì Che ci fa Quello lì Ferro corri Che codice feroce Con noi Inserito Nel negozoggiati Per il massimo Supporto In questa macchina Non sta succedendo Nulla di strano Sto Sto pisciando Preferivo non vedere Ok buono In qualche Maniera Aia A mia schiena Siamo scappati Ok andiamo là sotto Che ci sta pure Forse un falò Che ho volato abissale Medikit però Medikit ora Let's go Un altro medikit Allora Sai che Aia Non sono messo male Anzi Sono messo molto bene Adesso mi fullo di pietra Poi mi fullo di legna E poi mi chiameranno Il cacciatore di taglie Cos'è quella cosa Mosaici Ok Ferro Video di postazione Da gaming Per capito Non era dettagliato Sicuramente Oddio Non lo so ragazzi Sapete che lo farò Magari lo farò Nella storia di instagram Aggiungendo anche qualche altra Altra cosa di nicchia Vediamo vediamo Mi raccomando nel frattempo Codice ferro Per il massimo supporto Nel negozio oggetti di forte Scusatemi se sono ripetitivo Ma ci tengo che utilizzate Per il massimo supporto Ci mettete un click Un secondo Mi starete supportando al massimo E Like Iscrizione al canale E Aiuto Perché Stavo per morire Mi raccomando Supportatemi anche al massimo Con il cod E Sì ancora Venite a seguirmi anche su instagram Raga mi raccomando Per vedere un po' Della mia vita privata Che so che mi interessa molto Wow 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 No in realtà raga Vi potrà interessare molto di più Quando sarò a No spoiler Attendete letteralmente Neanche una settimana Sì una settimana esatta Una settimana esatta Io in questo giorno Sarò in volo Quindi spoiler Saremo fuori dall'Italia Eh ma Ferro Se solamente Parti da Da Milano Per andare in Sicilia Lo puoi prendere comunque Quello e volo Quindi potrebbe essere quello Hai spoilerato Ah Scusate Questi sono i discorsetti Che Ci sono nella mia testa Sono tipo Una botta e risposta Di quello che potrebbe succedere Leggo tanti nomi raga Ma Non vi potrei dire quale Quindi Sparateli Confrontatevi tra di voi Non Non ve lo posso dire Leggo ancora Charm Londra Africa Parigi Leggo tanti signori Mamma mia Che percorista Allora Che facciamo Vuoi andare a pushare Signor Ferro Qua ci sta la taglia Allora Diciamo che dopo tutte Queste build Anche perché Il bro Ha due taglie Molto onestamente Preferirei andarmi via Cosa che farò Perché ci sta pure un tizio qua Infartatevi tra di voi Divertitevi Anche perché io sento Un altro tizio Con la macchina qua Oh La mia Lambo Mi ricordo Che qua sono passato In questa partita Ho fatto tutto il giro Della mappa In questa partita Non usi l'alieno Come skin No ragazzi Voi Siete arrivati Quando Allora Nell'ultimo periodo Stavo usando l'alieno Ma voi non comprendete Cioè solo i veri OG Lo sapranno Ma davvero i veri OG Che raga La mia skin iniziale Era questa raga E lo è stata Per tantissimo tempo Skin super Trapposa con le Jordan Signori Fatta di ferro Guardate Guardate i muscoli In fibra di ferro Tipo Thor Rivestito Non rivestito Da Thor No Non è quello Con la taglia Vero E adesso Boom Hehehe No Ok piano Io direi Diamo via da qua Non per questo che non mi fa paura Molto onestamente Dovrebbe esplodere Ok Ma che capo Ok È stata un'ottima kill ma Cazzata Cioè Buona per i punti eh Come stai code ferro code ferro Anna vecchio tutto bene grazie Non c'era bisogno di spammare quello cioè Cioè ti ringrazio eh Tanto vuoi fare assai di vita veramente imbarazzante Fortuna per la quale non è morto Raga ma Ok sta qua il tizio con la taglia Piano eh Dicevo questo qua con la taglia Mi sembra che venga verso di me E una cosa che non vorrei in questo momento è una cecchinata in testa Veramente Ti prego gioco non far sì che mi cecchinino in testa Fammi trovare mongral Avc 1 2 3 Oppure mitro Che tipo è tornato a giocare Ma ti prego Non mi far ci chinare in testa Buonissimo in realtà eh Ok Raga Abbiamo le armi che ci possono permettere di vincere Da adesso non si accettano più scuse eh Il gioco un cecco ce l'ha dato Non esiste più nessuna scusa che tiene 11 giocatori Una kill Se raga se dovessimo vincere questa siamo a real No no L'avevo What? Raga me l'ho strapreso Se ti esponi muori eh Ma tu ma Ma no 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 Ciopo avemo un gnagno Grazie mille per l'euro Ma perché questo qua ha dovuto Pushare Bravo bro aiutami adesso Eh ma raga io non ho nulla per andarmene Raga questa è la situazione che ci uccide Grazie mille ciopo avevi un gnagno Ragazzi lasciate un like Al messaggio di ciopapi No Ok raga è ciò che serviva eh Che situazione è Ciò ti prego fammi scappare No Ma c'ho ancora il medaglione Ma che volete No ragazzi voglio piangere io Cioè raga ma che cazzo Che sono appena visto Questo è palese teaming eh No No raga giuro Datemi un secondo eh No way L'avrei pure potuto killare Raga ma che è Ma come mi ha pushato Questo Questo è il ragazzi Il player con meno in chi Cioè ve lo giuro raga Perché mi ha pushato così A caso fuori Fortunato raga Che l'altro se n'è andato Perché questo ci moriva Da pollo Da pollo ci moriva Perché mi ha voluto pushare Raga si tenta l'ultima full push Questa deve essere l'ultima Questa è una full push Ci deve entrare sto game raga Siamo arrivati con Leonardo Uscito veramente a casa dalla classe Senza permesso L'andri sbattendo tutto Ottimo Gigi sempre per Alessandro L'amicizia non posta raga Mi raccomando Però è stato molto bravo Grazie Sabina Grazie vi ricordo Per l'ultima volta Mi raccomando Codice ferro nel negozio jet Per il vero massimo supporto E voi mi chiederete Ma cos'è il vero massimo supporto Ragazzi è il supporto Maximus Maxato Ciupapi mugnagno Grazie mille per un altro franco Ti metto pure io il like ora Mettete like signori Nel commentino Voglio vedere Ragazzi fate arrivare Sto commento Del franco mandato Di show papi mugnagno A 100 like Voglio vedere se ci arriva Ragazzi trovate tutti i like Voglio vedere quanti like può arrivare Provate di più Voglio provare di più Siamo in 650 In live raga Provate a farlo tipo Arrivare a 200-300 like Beh sicuramente Un sacco di gente Non vorrà metterlo Magari alcuni non possono Perché sono da tv Però tutti quelli che possono Fatelo vi prego Sono curioso di vedere 22 45 Su su raga Dai Un tasto e basta 45 Voglio vedere Quanto può arrivare Un commento Dei Secondo me tipo Il 100 non esiste Arriva tipo 99 Tipo scrive 99 più Secondo me 51 Dai ragazzi Drop the like Al Ciupapi Mugnagno Euro Franco Niente 51 Sarà per la prossima 55 Oh E' vero che posso pure Droppare il cuore Ora Metto pure i cuori Tutte le nozioni Allora Andiamo Versante velato Questa raga la push Può giocare il mio sogno Può alzare la tastiera E fare smr GG Lo sapevo Niente Facciamo dopo smr Anzi Ah che bello Sei in lobby con money maker Oh porca trote Lui E raga Questa è la killare Allora Fermi 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 Fatemela Fatemela Trajardare Raga Questa prova Vincere Allora Ho sentito un player Vero Ho sentito più di un player Guys è vero c'è Ma no è già morto Ma che è GG Io che volevo killare il money maker Un girl palesemente fake Ma a me non mi fa paura Né money maker Nessuno Adesso vi faccio vedere io Senza armi il ferro Eh vedete 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 Ciupabio Grazie mille Dell'altro euro Dell'altro franco Ragazzi per favore Provate a stramettergli like Ti metto subito il primo like Io il cuore Raga vi prego Intanto grazie mille dei tre franchi bro Gentilissimo Davvero grazie Raga vi prego 17 like Ok questo può arrivare alto Per favore proviamo a fare 100 Dopo potete stopparvi Voglio vedere se arriva 100 like 51 ok Questa la vedo potente Raga dovete dropparlo tutti Per favore Droppate like nel commento Raga dove c'è tipo la donazione Sotto c'è like Perché si ferma 51 sempre Ok 56 Ma o che siamo sempre noi 56 persone Raga che Che facciamo Si blocca 56 Non compriendo Ah mamma mia Volete vedere una cosa Satisfate di brutto Ah che bello Mamma mia ragazzi Quanto è Satisfate Ok Così occhi chiusi No non ho preso una sola Doppio flopper Non l'ho preso neanche uno Ah ma io ecco Io di un pompa ho bisogno Io bisogno si di un pompa Carissimo gioco Se vuoi darmi Un fucile a pompa Un piacere tu ci farai Dammi un pompa Pistolina Schifo GG Questi Io direi di jumpare E cercare un pompa Raga No 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 Se non c'è un pompa qua Sono morto No no Il bianco no Tutto ma non il pompa bianco Così Ok piano Ok piano raga che Sono arrivate tre di persone Ok Perché mi stanno pusciando in due Perché mi pusciano in due 16 Qualcuno mi spieghi Perché non capisco Perché quasi dove vogliono me Ciò papi e mugnagno Ancora grazie mille dei due franchi Siamo i youtuber priorito Grazie mille bro Vi prego Arriviamoci stavolta Grazie Grazie gioco di pompa Questo pompa è tuo Grazie gioco papi mugnagno Ho portato veramente la fortuna Ragazzi Lo possiamo far arrivare A 100 likes O commento Per favore Ancora Grazie di due franchi Addirittura Ok 49 Ok 49 Questo ci è arrivato Ci arriva Se si ferma 56 Ragazzi abbiamo capito che non è Colpa nostra Ok 62 Record Record Metto pure io 63 Su 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 con i like raga Al commento Della donazione Vi prego 71 Signori Record Record Vi prego Arriviamo ai 100 Voglio vedere cosa succede ai 100 Vi prego Vi prego raga Una soddisfazione personale 85 Ne mancano 2 o 3 raga Vi prego Fatemi andare a vedere come è messo Voglio vedere cosa succede Uccidetemi ma arriviamo 87 Raga tornate su nella chat Al commento dei due euro donati Per favore Dei due franchi 87 Vediamo chi sarà il novantesimo 94 Ok Gli ultimi Vediamo chi farà parte di 100 E se sarà 99 più oppure 100 Oh 104 Beh Bravi Siete dei maiali Siete dei maiali 100 così Bravi Bravi Non scherzo Comunque davvero raga 104 è arrivato Non sapevo che ci fosse il terzo numero Figo Molto molto bello Ed ora Attenzione Non sapevo che ci fosse il terzo numero Mi sono incastrato Dammi il 1% comunque il gioco So che mi vuoi dare il 1% il gioco Sì Allora Io Vi direi Che sicuramente faremo domani o dopo domani una nuova live Sì Penso proprio Quindi per ora io vi ricordo Codice ferro Con un 5% che rimane Codice ferro Like Iscrizione al canale Mi raccomando fondamentale perché a breve uscirà la nuova season Mega bacio Passate sui stramferro Ficiamo con tre o Ci vediamo nel prossimo video Bella rega Domani nuovo video Ci fingeremo Il nuovo boss Ciao raga Beso Ciao 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 Vi amo Vi rovo Ciao a tutti Mua